C'era una volta, 27 febbraio anno 80 viene emanato l'editto di Tessalonica, 27 febbraio 1593 Giordano Bruno viene imprigionato nel palazzo del Sant'Uffizio a Roma, 27 febbraio 1917 viene occupata la residenza dello zar a San Pietroburgo e la rivoluzione russa di febbraio. 27 febbraio 1987 scoperto da Madonna anche Lit Parade italiana conosce il ragazzo della lavanderia. Nick Heyman, it's time you break my heart.